Nel Vangelo di oggi, 5 gennaio 2023, continua ancora la testimonianza e la chiamata. Gesù chiama uomini alla sua sequela, ma i chiamati a loro volta diventano annunciatori, evangelizzatori. Ed è il caso anche di oggi. Gesù si trova in Galilea, incontra Filippo e lo invita alla sequela. Filippo incontra Natanaele e gli dice abbiamo trovato colui del quale ne parla Mosè e i profeti. Natanaele dice una frase un po' sciocchina, può venire qualcosa di buono da Nazareth. E qui, ecco, noi abbiamo la possibilità di dire che il Signore può operare come vuole, quando vuole, con chi vuole. Può suscitare cose meravigliose dalle cose più insignificanti e con le persone più piccole di questo mondo. Anzi, più piccole sono piccole di cuore, di umiltà, piccole per quanto riguarda l'obbedienza, cioè uomini che consegnano la volontà al Signore. E che cosa fa? Gesù vede venire Natanaele e dice di lui ecco un uomo nel cui cuore non c'è falsità. E Natanaele si stupisce e dice tu sei il Messia. E Gesù dice perché ti ho detto questo, tu credi in me? Ricordo che poc'anzi avevi detto che niente di buono poteva venire da Nazareth. Ecco, vedrai cose più grandi di queste. Allora, questo Vangelo che tra poco vi leggo è un invito ad essere anche noi evangelizzatori e portare belle testimonianze con la nostra vita, con il nostro esempio. Se il Signore ci ha afferrati, non possiamo tacere. Se il Signore ci ha cambiato la vita, non possiamo tacere. Se il Signore si è fatto luce per noi, non possiamo tacere. Dobbiamo dire ciò che abbiamo visto. Dobbiamo testimoniare ciò che abbiamo toccato. Dobbiamo raccontare ciò che abbiamo ascoltato. E non dobbiamo dire non è vero. No, è vero perché il Signore è entrato nel mio cuore e lo ha stravolto. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù volle partire per la Galilea. Trofò Filippo e gli disse, seguimi. Filippo era di Bezaida, la città di Andrea e Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele gli disse, da Nazareth può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose, vieni e vedi. Gesù, intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui, ecco davvero un'israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò, come mi conosci? Gli rispose Gesù, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di Fichi. Gli replicò Natanaele, Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù, perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di Fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. In verità, in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Allora io voglio concludere con una frase che diventa per voi una domanda. Abbiamo detto a qualcuno o siamo disposti a dire a qualcuno? Io ho trovato colui di cui parla la scrittura, il Messia, che ha cambiato la mia vita?